Sono entrati in casa alle 5 di mattina, cioè io non dormo, le notte non dormo mai, quindi ero già sveglio. Sono arrivati, tutti così, sono entrati tutti e sei, eravamo io e Saki, sveglio e Saki, li faccio frate, sono tantissimi, faccio preparati a San Vittore, oggi andiamo a San Vittore, non lo so perché, ma oggi andiamo a San Vittore. Da lì ci fanno che hanno mandato di perquisizione per un video, per un video che abbiamo fatto di bimbi soldati. Cioè perché non sono entrati a casa degli attori, perché non vanno a casa degli attori che sparano dalla mattina alla sera e vengono a casa media di un cantante? Perché? Perché sono io, baby gang, non perché ho fatto vedere le armi, perché tutti nei video fanno vedere le armi, a nessuno entrano in casa alle 6 di mattina. Io adesso non faccio nulla, non faccio più nulla, adesso sto facendo musica e mi sto comportando bene, però quello che ho fatto io qua, di rapper qua in Italia, te lo posso giurare su mia mamma, che non hanno fatto manco un quarto,